Oggi la polizia locale celebra San Sebastiano, comandante Maurizio sarà il suo ultimo San Sebastiano visto che tra poco andrà in pensione dopo 36 anni di servizio e quasi dieci anni passati al comando di Lecco. Che comando ha trovato dieci anni fa e che comando lascia? Avevo trovato un comando già avviato e certo abbiamo applicato delle tecniche magari un pochino più moderne, abbiamo una centrale operativa che è all'avanguardia in tutta Italia, è già collegata col centro di elaborazione dati della Polizia di Stato di Roma tant'è che ha fatto un po' di apripista per tutti gli altri comandi d'Italia e a breve il Ministero degli Interni emanerà specifiche direttive affinché tutti i comandi come Lecco, la quale ripeto è stata la prima, potrà avvalersi di questo sistema di tracciabilità targhe che nel comune specifico di Lecco sta portando a ottimi risultati. Come è cambiato il ruolo dell'agente di polizia locale? È un agente tutto fare, è un agente che interviene sempre e quasi per primo perché magari a differenza di altre forze di polizia, come sappiamo la polizia locale è proprio in tutti i comuni, magari proprio per la presenza capillare sul territorio interviene unitamente alle altre forze di polizia il ruolo è profondamente cambiato perché ha necessità ogni giorno di essere aggiornato il personale, soprattutto al passo delle leggi e soprattutto a fianco dei cittadini. Da punto di vista personale come si è trovato a Lecco? Sono trovato benissimo e voglio sottolineare per l'ennesima volta che abbiamo avuto buoni risultati anche in termini di indagini, in termini di servizio sul territorio ma soprattutto con l'impiego intelligente del personale della polizia locale e come dicevo ma anche con la vicinanza, col cittadino che tante volte proprio tramite le sue segnalazioni ci ha dato indicazioni utili per poter risolvere parecchi casi anche importanti. C'è un video che avete realizzato con gli incidenti fatti qui in città che è tra i video più visti sui social network, perché anche in questa direzione bisogna andare, informare, far vedere, non far sottovalutare questi pericoli. Sì, questo è molto importante quello che ha detto lei, ho notato anch'io che questo video è stato visualizzato da migliaia e migliaia di persone, è necessario avere anche un contatto stretto con i ragazzi, con i ragazzi che sono il nostro futuro, quindi entrare nelle scuole, aprire un anello di collegamento con loro, un discorso diretto affinché la polizia locale non sia vista soltanto sotto il punto di vista sanzionatorio, ma anche una polizia che può dare quelle indicazioni utili alla guida del veicolo, quella di non perdere il controllo del veicolo per una banalità, per fare un messaggino, per telefonare, dare più valore al vero significato della vita.